Riunisce 21 leggi regionali, un titolo e 42 articoli abrogandoli. È il testo unico del commercio che andrà a regolamentare il settore. Un testo condiviso con le associazioni di categoria, come spiega il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Abbiamo lavorato con le associazioni delle categorie rappresentate e ci siamo avvalsi del loro contributo e delle loro competenze. Stiamo parlando di una cosa importantissima di cui spesso si sottovaluta l'importanza perché ha molto a che fare con la vita dei nostri centri, dei nostri borghi, delle nostre città. Purtroppo si stanno impoverendo le nostre città di presenze commerciali che invece rappresentano, oltre a un aspetto finanziario e sociale, anche un aspetto identitario e culturale. Per quanto poi riguarda il testo, c'è la difesa dei negozi in centro storico e regole per gli ambulanti, oltre alla liberalizzazione delle vendite in liquidazione. Finalmente si potrà risolvere i problemi procedurali e l'attività dei commercianti in un modo molto più semplificato. Introduciamo, raccogliamo per primi in Italia i dispositivi nazionali, per esempio per quanto riguarda la possibilità dell'allargamento merceologico per le edicole e per altri vantaggi per altre categorie di commercio e poi facciamo una scelta molto radicale per quanto riguarda il prolungamento del blocco della grande distribuzione nella nostra regione. Grazie.